Il sole a riscaldare la Torre del Mangia e Piazza del Campo che ora dopo ora ritorna alla tradizione consona fatta di turisti esterrefatti e passione che trasudano la città rimasta a digiuno di due prove. Da fuori magari quando si vede il palio per esempio sulla televisione non si capisce ma quando sei qua riesci a comprendere proprio tutti gli aspetti della vita diciamo della contrada che non è solo il palio. Questa mattina come ieri pomeriggio Siena è stata costretta a rinunciare alla routine paliesca fiaccata dalla perturbazione che anche stanotte ha funestato il tufo. Necessario perciò per l'amministrazione comunale rimboccarsi le maniche fin dall'alba per fare in modo che la prova generale si potesse disputare. Mancava il sole, ora il sole ce l'abbiamo. I ragazzi è una squadra veramente di persone splendide hanno lavorato tutta la mattina e stanno lavorando anche ora quindi cerchiamo di mettere la pista nelle condizioni migliori per poter correre stasera in maniera tale che si possa fare la prova generale in maniera ordinaria che ci possa essere uscita del drappello dei carabinieri a cavallo come è consuetudine e come è di solito, un appuntamento importante quindi stiamo lavorando per cercare di ottenere questo risultato. Per la gioia di una comunità pronta ad abbeverarsi alla festa dopo un anno di attesa e dei turisti che dopo l'incertezza delle ultime ore possono vedere di nuovo il canape tirato. Il clima come sempre è stupendo, emozionante direi, la gente di qui, non solo i contradaioli ti sanno accogliere e diciamo che ti fanno sentire partecipe di questo grande momento ovviamente col fatto che da parte nostra ci deve essere sempre il rispetto perché siamo ospiti da altra parte di una città che credo sia una tra le più belle che c'è in Toscana. Senza la bandiera verde a sventolare inizia tutta un'altra musica la sinfonia perfetta prima dell'acuto finale domani a partire dalle 19.30 come da 5 secoli a questa parte.